tipro belgio anno del signore 1914 24 dicembre l'europa vive i drammatici inizi della prima guerra mondiale inglesi e tedeschi si fronteggiano sul campo di battaglia nella zona vita in territorio belga la guerra è iniziata da mesi ma la vigilia di natale avviene qualcosa di straordinario i soldati tedeschi nelle loro trincee si attestano a festeggiare addobbando con materiali di fortuna intonano stillenacht il canto più celebre della tradizione natalizia tedesca dall'altra parte del canto gli inglesi discorgono ascoltano quel canto per loro così familiare ma certo è stillenacht qualunque bambino inglese la conosce allora un soldato tedesco si fa coraggio esce dalla vincea e con le braccia alzate avanza nella terra di nessuno buon natale vi prego non sparate solo buon natale qualcuno parla di un miracolo forse semplicemente quei uomini nemici sul campo di battaglia in quell'istante si sono riscoperti simili uniti da un desiderio di normalità di pace di calore di gioia da mesi loro negati e fu tre gli inglesi e i tedeschi sulle note di quel canto escono dalle trincee si incontrano si scambiano gli auguri e qualche giorno improvvisato bottoni tabacco tavolette di cioccolato giocano addirittura una partita di calcio si scambiano gli indirizzi per potersi scrivere una volta a casa una volta in pace già da pace loro ancora non lo sanno ma molti altri anni di guerra li attendono tutto avviene solo per una mano ma che no qualcuno parla di miracoli sì forse davvero sì 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 Grazie.